Musica Buonasera e bentrovati con lo spazio informativo del pomeriggio. La cronaca in apertura, nuovo caso di ladri pendolari scoperto dai carabinieri in Valditiana. Rubano capi di alta moda per un valore di 1.300 euro un minorenne ed una donna di 47 anni denunciati per furto aggravato dai carabinieri della compagnia di Cortona. È accaduto a Foiano della Chiana, ennesimo caso di ladri pendolari scoperto dai militari dell'arma, dopo quello del 23enne Aretino sorpreso a rubare in due supermercati della Valdichiana. I due, un 17enne ed una 47enne, entrambi residenti ad Arezzo, avevano rubato in un negozio di Foiano della Chiana capi di alta moda lo scorso 3 aprile. Dopo la denuncia i carabinieri della stazione con i colleghi della compagnia si sono messi al lavoro e attraverso l'esame e la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, nonché la raccolta di informazioni sul territorio, sono arrivati fino ai due poi denunciati, anche in questo caso, come dicevamo, provenienti da Arezzo. Un R in canna allo spirito del cambiamento e della ripartenza. Due le nuove collezioni, una in bronzo ed una in oro. Momento positivo per l'azienda Aretino. Ora Arezzo ha i nastri di partenza, un R ovviamente c'è con una nuova collezione, con un brand nuovo che va in gioielleria. La fiera che si apre purtroppo è un pochino compressa rispetto agli avvenimenti che stanno accadendo intorno al mondo, però ci aspettiamo comunque dei buyer che provenienti dal Sud America piuttosto che dal Nord Europa e perché no magari anche italiani, anche se la vocazione di questa fiera è prettamente internazionale. Per quanto riguarda le nuove collezioni, noi presentiamo la nuova collezione in bronzo dedicata al colore, alla gioia, alla voglia di uscire che si è espressa subito dopo la pandemia, subito dopo il buio di questo brutto momento. E la nostra nuova collezione in oro, Batticuore, che tornerà nelle più belle gioiellerie italiane per riportare il nome di una R anche con il metallo più puro e che ci ha sempre caratterizzato. Orgoglio aziendale in questo momento è buono? Il nostro mercato ha performato bene dopo la pandemia. Noi siamo tornati a livelli ben superiori al pre-pandemia e come hai detto tu l'orgoglio una R si è sentito perché i progetti che abbiamo messo in atto e le opportunità che abbiamo sfruttato in un momento così difficile devono rendere orgogliosi tutti quanti. Non solo siamo molto superiori a livelli pre-pandemici e non voglio parlare nemmeno di ripartenza perché questa è una conferma di un piano e di obiettivi che sono partiti ben prima della pandemia e ora si stanno concretizzando. Rinnovo in vista anche per l'ente Acque Umbro Toscane, in pratica la società partecipata che gestisce l'attività della Liga di Montedoglio. Entro il mese di giugno dovrà essere nominato il nuovo CDA, ma si profila uno scenario decisamente curioso. Fino agli anni 80 era l'ente Valdichiana, poi ha cambiato nome in Progress per diventare in maniera definitiva ente Acque Umbro Toscane. La sede invia il ristoro aderezzo. Entro il mese di giugno anche questa importante partecipata interregionale dovrà cambiare assetto. Lo statuto parla chiaro, un mandato di nomina Toscane e quello successivo Umbro. In mezzo c'è sempre la presenza di un soggetto terzo di nomina ministeriale. Gli altri due dunque sono di competenza regionale e qui si affaccia uno scenario a dir poco curioso. Da tempo i territori reclamano una presenza qualificata in questo ente, mentre la parte Umbra, bene o male, è sempre riuscita a trovare uno spazio adeguato. L'ultimo è il presidente uscente, il Tifernate, Domenico Caprini. La Valtiberina Toscana non ha mai avuto un supporto che la potesse rappresentare. Per sottile gioco del paradosso, la situazione adesso è più complessa, visto che le amministrazioni della parte toscana della Valtiberina fanno riferimento al centro-destra con la regione in mano saldamente al centro-sinistra. In Umbra invece la situazione è opposta, con gli enti locali di zona in mano al PD e ai suoi alleati con la regione a trazione leghista. Per Montedoglio dunque la politica dovrà fare la sua parte, ma trovare anche una soluzione diventa un vero e proprio puzzle. Educare alla mobilità sostenibile, scoprire la città in sicurezza. Domenica 8 maggio torna Bimbi in Bici con partenza dal Parco Ducci di Arezzo. Al Parco Ducci torna l'appuntamento con Bimbi in Bici, un'occasione per riscoprire le due ruote organizzata da FIAB con il supporto dell'amministrazione comunale. Bimbi in Bici è una manifestazione nazionale della FIAB che c'è da tanti anni che serve a porre l'attenzione sulla sicurezza stradale nei percorsi casa-scuola dei bambini in particolare. La prima risorsa per non gravare sul traffico, la seconda risorsa per gli aspetti euristici appunto dei bambini che vanno da sole e che riscoprono. E poi è una bella festa di primavera per tutti quanti. Ecco Domenica 8 maggio come si snoderà il percorso? Un percorso cittadino che va anche nelle estreme periferie fino a Stagiano, Marchionna, poi ritorna indietro, Saione, Pescaiola e poi la zona Prataci-Fiorentina e si rientra. Un percorso di circa 10 chilometri. Bimbi in Bici è un evento ormai consolidato ad Arezzo che dà modo alle famiglie e ai bambini appunto di imparare ad utilizzare la bicicletta che poi è una buona abitudine anche magari per andare a scuola e quindi qui c'è un lato sicuramente sportivo ma anche di buone politiche giovanili. Accanto a questo c'è anche un'educazione alla mobilità sostenibile, sono tanti progetti anche che coinvolgono alcune scuole aretine su questo tema. Stiamo portando avanti entrambi le linee che portano avanti quella che è la mobilità sostenibile, quindi le infrastrutture, a breve chiuderemo il collegamento che da San Donato collega a Via Colombo andandola ad inaugurare e portiamo avanti anche quello che è la promozione di queste piste ciclabili quindi andando a intervenire soprattutto nelle scuole che poi saranno il futuro e domani dovranno utilizzare queste piste ciclabili. Stiamo a parlare di parchi, questa volta di quello del Pionta che è al centro di un percorso di co-presentazione aperto ai cittadini, studenti e associazioni, un ciclo di incontri promosso dalla Università di Siena e dall'Associazione Narrazioni Urbane. Un percorso partecipativo aperto a cittadini, studenti e associazioni per co-progettare il futuro di una delle più grandi aree verdi della città. Si chiama Rigeneramenti, riabilitare il Parco del Pionta ed è il progetto promosso dal Dipartimento Aretino di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale e Narrazioni Urbane con il sostegno dell'autorità regionale per la promozione della partecipazione e il patrocinio del Comune di Arezzo. Il ciclo di incontri è ospitato al campus del Pionta. È un progetto che mira a mettere in cantiere delle attività, degli eventi molto partecipate il che vuol dire che vede anche una presenza ma anche un'attività che ogni cittadino può sostanzialmente realizzare. Questo voglio dire è il luogo dove si possono portare anche i propri pensieri, le proprie elaborazioni, le proprie idee, le proprie opinioni. Mi piacerebbe fare una certa cosa oppure io penso al Pionta come un luogo dove è possibile eccetera eccetera. ovviamente siamo a metà del percorso, sono previsti altri giorni come questo di coprogettazione il 10 maggio alle 15 alle 18 e il 24 maggio sempre alle 15 alle 18. Alla fine del progetto ci sarà un evento di autocostruzione, quindi sarà un evento ovviamente molto importante a giugno e a quel punto vedremo che cosa lasciare. Senta, in cantiere c'è anche la costruzione di un contenitore web proprio a questo fine, per queste finalità? Crediamo che un sito possa essere di facile accessibilità a chiunque e possa diventare appunto un contenitore un po' che tesaurizza e che quindi conserva ma in un modo vivo, stimolante, quello che sostanzialmente faremo. Sabato 7 maggio alle 21 e 15 nella chiesa di Santa Maria della Pieve ad Arezzo si terrà il concerto per il progetto Durante e Dopo di Noi. La musica abbraccia la solidarietà a sostegno della Fondazione Riconoscersi, il programma musica di Verdi, Schubert, di Ebiussi, Schopen e di molti altri autori. Il concerto è promosso e organizzato dai Rotary Club dell'area Etruria, dall'Ideoguil Arezzo, dall'Ideoguil Arezzo Toscana Europea e dal Rotaract di Arezzo. 5 maggio 1821 si spengeva, celebrato da Alessandro Mazzoni, Napoleone, personaggio tanto discusso quanto grande. In Val di Chiara il medagliere napoleonico, tutto da visitare. Eccomi qua. Napoleone è stato uno dei più grandi personaggi della storia, figura controversa ma anche di vedute che sono andate sicuramente oltre i suoi tempi. A Castiglion Fiorentino, inserita nel circuito delle città napoleoniche, c'è il museo con il medagliere napoleonico che in virtù di una convenzione rimarrà nella sua sede attuale fino al 2026. Situato proprio nel cuore del centro storico della città e all'interno del sistema museale castiglionese, vede esposta una collezione unica nel suo genere, composta al momento da più di 1200 esemplari che ripercorre la storia europea negli anni che vanno dalla rivoluzione francese alla restaurazione dopo la caduta e morte di Napoleone. In quegli anni tutte le corti avevano presso di sé artisti ed incisori incaricati appositamente di celebrare nel metallo i principali avvenimenti militari e non. Gli stessi rivoluzionari francesi non abbandonarono questa tradizione, facendo coniare centinaia di medaglie e gettoni finalizzati a celebrare tutte le conquiste di libertà che si susseguirono dall'apertura degli stati generali. A differenza della maggior parte delle collezioni medaglistiche tradizionali, normalmente concentrate esclusivamente sulle coniazioni di singoli paesi, in primis Francia ed Inghilterra, nella collezione custodita al medagliere si trovano invece pezzi prodotti in tutta Europa, dimostrando come stessi eventi possano essere visti in modo diametralmente opposto. Il medagliere merita una visita per immergersi in una storia che diventa sempre più attuale. Un giorno speciale per tutte le ostetriche del mondo. Oggi infatti si celebra la giornata internazionale delle ostetriche che ebbe il suo inizio il 5 maggio del 1991 e da allora è stata osservata in più di 50 paesi di tutto il mondo, tra cui il nostro. La giornata è stata ideata dalla Confederazione Internazionale delle Ostetriche durante la conferenza olandese del 1987. E prima di saluti ricordiamo che Teletrune ha in forma, che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti a pagamento per l'elezione diretta del Sindaco, del Consiglio Comunale di Monte San Savino e Monte Mignaio e per il referendum popolari indetti per il giorno 12 giugno 2022. A tale fine informa che presso la nostra sede di Case Nuove di Ceciliano è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la loro fruizione. E ricordiamo gli appuntamenti di questa sera dopo il nostro telegiornale potete assistere a 9.10 che oggi si occupa della scuola Colloni di Sansepolcro al termine Caffè Bollente condotto dal nostro direttore Luca Caneschi alle 23 in diretta l'appuntamento con l'oroscopo in compagnia di Alessio. E' tutto, appuntamento alle 19.30 con il Tg delle Vallate alle 20.30 per l'edizione serale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie.